Gentili amici di FC Internews, un saluto da Simone Togna, un saluto da Piano Gentile, dove si sta tenendo in questo momento l'allenamento della rifinitura dei Neroazzurri in vista degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. L'allenamento è iniziato a mezzogiorno con Acerbi e Quadrado, che hanno lavorato a parte, assente Sensi che in questi giorni si opererà, ma che comunque non era stato incluso nella lista a Champions. La formazione anticolcio nero si è presto fatta con in campo i titolarissimi. L'unico dubbio in realtà riguarda solo la fascia destra, con Darmian che però è favorito su Dumfries, nonostante nella seduta odierna lo stesso Inzaghi abbia richiamato più volte il calciatore olandese. Per il resto, come detto, Inzaghi si affiderà ai suoi titolarissimi, quindi Somber in porta con Pavard sul centro-destra. De Frai sostituito proprio di Acerbi nel trittico arretrato difensivo. Bastoni, braccetto di sinistra, come detto Darmian sulla destra. Dall'altra parte ritorna Di Marco dal primo minuto. Centrocampo di gala con Cialanoglu-Barella, tra l'altro molto ispirato durante i 15 minuti di seduta aperti. Ai media Mkhitaryan e davanti la coppia d'oro composta da Lautaro Martinez e da Marcus Turam, che alle ore 15 comparirà in conferenza stampa con il suo allenatore. Si prevede chiaramente un San Siro totalmente esaurito. Quest'oggi la squadra non andrà in ritiro, ma si ritroverà nel centro sportivo nero-azzurro domani mattina intorno alle 10. Per colazione!